benvenute e benvenuti all'inaugurazione dell'anno accademico 2020 2021 dell'università caposcari venezia grazie a tutti voi che siete qui presenti è un'emozione rivedervi ed è la prima volta per me che ha un anno accademico in presenza quindi è una grande ringrazio grazie un'altra volta al treno un'altra volta al treno un'altra volta al treno un'altra volta al treno